buonanotte a tutti dalla bionda svampita c'è qualcuno in casa tua ennesimo film di propaganda walk dunque i cattivi quelli che vengono uccisi che sono delle teste di cazzo sono tutti quanti biondi o bianchi americani una specie di mezza nazista quello iniziale pesta gli omosessuali e c'è un assassino che mette a nudo il loro segreto appunto in questo caso questo quarterback fra l'altro americano liceale pesta un suo amico omosessuale che lo perdona perché è buono tutti gli omosessuali sono buoni non esistono sessuali cattivi nel mondo nuovo questo assassino mette a nudo queste persone e poi le ammazza e lo fa anche con sta stronza nazista bionda con gli occhi chiari ovviamente perché chi può parlare di razze superiori se non uno che si sente un ariano nato in america che non è nemmeno una terra loro ma va bene poi se la prende con i nerd i nostri amici adolescenti che noi ci porteremo fino alla fine ne riuscirà ad uccidere uno l'altra quasi ci riesce non ci riesce bene un altro pure quell'omosessuale non riesce neanche con lui questi nostri amici nerd sono un ragazzetto che si fa delle pasticche di fentanyl della madre per cui tutta la scuola si ammazza di canne e prende per il culo l'unico ragazzo che fuma quando scoprono che questo qui si fa delle pasticche dei sonniferi della madre ah ma che ti fai ma sono impasticcata cioè ragazzi fanno un party a casa di uno di questi nerd l'unico poi fra l'altro bianco e biondo con il padre straricco che lo so gioca parecchio e il padre di questo ragazzo ha una collezione di ovviamente un'altra volta armi naziste divise naziste perché il padre fa queste a queste collezioni oltre ad essersi comprato metà paese questo ragazzo biondo ha trasformato tutte le armi naziste in bong perché wow è figo farsi le canne ma perché quello si fumano le sigarette non si fanno le canne ah ma tu ti fai le pasticche si è impasticcato vabbè e ammazzano questo ragazzetto nerd tale Rodrigo poi c'è una ragazza di colore che ah è tutti suprematisti bianchi ah nessuno vuole bene veramente alle persone non è perché tutti quanti vogliono qualcosa ah tutta la gente con i soldi l'audiatrice seriale che è nera poi c'è questa ragazza che la vogliono far passare per coreana non si capisce perché non si vedono i genitori però la madre mi sembra abbia il cognome abbia un altro cognome lei cambia cognome perché da ragazzina è stata presa in un credo non lo fanno capire benissimo lei ha cambiato cognome in questa nuova città questo è il suo segreto lei non morirà perché si salverà l'ultimo è stata presa dal branco di cheerleader di una tipo quelle k delta e compagnia bella solamente che credo che fosse ancora al liceo perché si capisce che da un liceo è passato a quest'altro viene fatta ubriacare lei e altre sue amiche quasi tutte di colore gli scrivono bitch in fronte tradotto come stronza in realtà è puttana lei da ubriaca spinge un'altra ragazza nel fuoco perché c'era appunto questo fallo sulla spiaggia e questa ragazza viene ostionata non muore e lei questo segreto tremendo per cui mi hanno accusata e poi ovviamente l'accusa si è trasformata in nulla perché si capisce proprio da tutta la storia che queste ragazze avevano bevuto e che non era stato fatto apposta questo è il suo grandissimo segreto per cui questo killer la vuole uccidere ma è ovvio lei è una dei nerd dei nostri cari amici nerd woke per cui lei non può essere uccisa non può avere un segreto cattivo come il suo amico che è stato però ucciso Rodrigo ma non aveva un segreto cattivo si mangiava le pasticche della madre cioè delle pasticche per credo che siano per l'ansia o sonniferi o calmanti cioè voglio dire boh vabbè come se io mi facessi di melatonina forse è pure più forte ma santo dio ve sfonnate le canne dalla mattina alla sera provano a uccidere insomma questi nerd e quasi non ci riesce questo assassino finché si scoprirà chi è l'assassino voglio soffermarmi un pizzichino su questi nerd fra cui questa ragazza che si vede subito che è una ragazza vestita da maschio col cappelletto nasa che poi viene presa nella nasa wow ha dimostrazione che in america nella nasa ci lavorano i coglioni perché lei è una he she it them they noi voi loro essi per cui cioè tu stai per tutto il film a dire che cazzo vuol dire i cattivi in questo film sono tutti quanti americani yankee e quelli sono tutti i cattivi tant'è vero che tra questi nerd appunto c'è il figlio dell'uomo più ricco del paese che è lui quello che uccide l'uomo più ricco il figlio più ricco biondo con gli occhi chiari che ovviamente uccide perché io non mi devo sentire in colpa per essere così ricco e che cazzo ti ha detto mai niente sai che te ci senti in colpa e riesce ad arzigocolare dei piani allucinanti perché a nove anni ha letto son sull'arte della guerra ok cioè magari posso arrampicarmi sugli specchi il padre colleziona tutti quei cimeli nazisti per cui magari il figlio ha letto parecchi libri ma è un po' arzigocolata come cosa ma avendo tanti soldi come bruce wayne di batman può crearsi le sue armi e far che cazzo che gli pare questo film è una cagata allucinante una cagata allucinante perché la nostra ragazza nera coreana appunto la nostra principale nerd Makami che è quella che ha spinto all'epoca la sua amichetta in mezzo al fuoco perché era ubriaca perché appunto delle cheerleader bionde l'avevano fatte ubriacare eccetera cioè lei alla fine riesce a salvare la situazione e come la salva? accoltellando questo suo amico la prima coltellata gliela dà per salvare il suo fidanzato però poi alla fine con tutte e due le mani chiappa sto cortello e tipo sacrificio zam perché tu che cazzo vuoi? che cazzo sai che ti senti in colpa per i soldi che hai? sei matto sì indubbiamente quello con la testa a posto non ci stava ma come fa un adolescente da un secondo nato a chiappa un coltello ad ammazzare qualcuno? per cui non lo guardate sto film che è l'ennesima cagata tipo quel film come si chiamava? quello dei talk dei talk to me una cosa del genere che avevano quella mano finta che toccavano i spiriti che entravano in loro l'ennesima cagata allucinante di un teen drama mezzo più che horror thriller dove c'è questo assassino che ammazza ma alla fine le uniche persone veramente cattive sono tutti quanti gli henki americani perché la nera no Rodrigo messicano no la ragazza Makami che è mezza nera mezza coreana perché Sunwo il suo cognome no tutti quanti sono colpevoli e sono colpevoli solamente gli stronzi l'assassino è una testa di cazzo bianco biondo con un padre più ricco di tutto il paese io non so che dirvi ragazzi questo cazzo di walk è Netflix anche questo per cui voglio dire io poi quando l'ho visto non avevo letto Netflix l'ho letto appena è cominciato e ho detto che palle cioè che palle vabbè non ho più nient'altro da dirvi è una cagata di film un bacio la bionda svampita vi saluta e va nanna ciao